Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Andrea Biagioni. Partiamo con la A12, dove a causa di un incidente si segnalano possibili disagi tra Carrare e Sarzana in direzione Genova. Sulla statale 1 Aurelia invece per lavori di pavimentazione scambio di carreggiata tra Monte Pescale e Gavorrano, chiuso lo svincolo di Braccagni in entrata e in uscita, e quello di Monte Pescale in uscita in direzione Livorno. Passiamo a Firenze, possibili disagi a causa di un incidente in via Vittorio Locchi all'incrocio con via delle Panche. Rimanendo su Firenze, si ricorda che da domani, lunedì 5 ottobre, dalle 9.30 alle 18.30, sono previste la chiusura di via Gioberti nel tratto tra via Villari e via del Ghirlandaio e l'istituzione del senso unico tra via Villari e piazza Alberti in direzione piazza Alberti. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!